Musica 42 capi d'accusa e 18 soggetti indagati nell'ambito dell'operazione Riders, portata avanti dai carabinieri dell'Aquila in collaborazione con i colleghi di Pescara, Montesilvano e Vasto. Riders, ossia predoni, proprio per le caratteristiche d'azione dell'associazione a delinquere, dedita prevalentemente al furto di rame, per un valore approssimativo stimato attorno ai 200.000 euro, che non disdegnava però reati di crash trapping, ossia di furti ai bancomat, nei quali venivano invece impiegati donne e bambini, oppure automezzi utilizzati per eseguire l'attività criminale. L'attività di indagine è stata avviata a seguito del furto presso la società aquilana Vivenda S.P.A., dove veniva rubato proprio un autocarro, munito però di dispositivo GPS. Questo sodalizio è quello del furto ai bancomat con la metodologia cosiddetta del cash trapping. Sostanzialmente è una tecnica che si avvale nel mettere un manufatto, un uncino all'interno del bocchettone erogatore del denaro e nel momento in cui l'ignaro avventore richiede il denaro stesso non lo vede erogato. L'avventore crede in un malfunzionamento della macchina e quindi si allontana senza preoccuparsi di nulla. Ovviamente subito dopo si avvicinano i malviventi ed estraggono i soldi trattenuti da questo manufatto precedentemente posto all'interno del bocchettone. La massima attenzione, se si nota qualcosa di irregolare, di strano, invito tutti a chiamare il 112 o l'istituto di credito presso cui ci si sta rivolgendo. Il risultato di rame alla vivenda grazie a una localizzazione GPS di cui era dotato il mezzo con cui si era allontanato il malvivente è stato rintracciato. Dalle sue dichiarazioni poi siamo riusciti a dare maggior impulso alle intercettazioni telefoniche e quant'altro e quindi a risalire a tutta la filiera, a tutti i sodali dell'organizzazione crimine. Non disdegnavano assolutamente alcun tipo di reato predatorio, sostanzialmente facevano razzie di tutto, da qui appunto il nome Riders, perdoni. Sale la febbre da Nobel e contagia anche l'aquila che potrebbe essere sfiorata dal riconoscimento alla fisica per il suo ruolo nella scoperta della conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali. Il Gran Sasso Science Institute del capoluogo, infatti, nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha contribuito alla rivelatore Virgo e dalle parti di Viale Crispi, sede della quale diventa la seconda università del capoluogo, in queste ore c'è un grosso fermento. Le onde gravitazionali sono state anche protagoniste della notte di ricercatori di venerdì scorso, che ha portato 25.000 persone in centro storico, come era accaduto nel 2013, dopo la scoperta del bosone di Higgs. Anche quest'anno c'è una grandissima attesa per il premio alla fisica, in particolare, proprio alla scoperta delle onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo generate dall'eco di fenomeni cosmici violenti, come la collisione tra buchi neri. L'attesa è forte e la probabilità del Nobel alla scoperta delle onde gravitazionali è piuttosto alta, ha detto Federico Ferrini, direttore dell'European Gravitational Observatory. È chiaro, ha aggiunto, che è un Nobel di quelli pesanti. Certamente tutti i Nobel sono importanti, ma ogni tanto qualcuno riveste un'importanza culturale molto particolare, perché apre prospettive nuove che aprono strade ampie e inesplorate. Annunciata nel febbraio scorso negli Stati Uniti e in Italia, la scoperta ha aperto una nuova finestra sulla fisica. Secondo le voci sempre più insistenti in circolazione nel mondo scientifico, confermate anche sul sito della rivista Science, il premio andrebbe a tre fisici americani che hanno giocato un ruolo di primo piano nella realizzazione di LIGO, il rilevatore americano che ha catturato il primo segnale, analizzato grazie alla collaborazione di Virgo, che fa capo al LIGO, fondato e finanziato da INFN e Consiglio Nazionale delle Ricerche Francese. L'attesa alle stelle anche in Italia, dove si trova il rilevatore Virgo, anche se sembrerebbe che nessun nome italiano sia in corsa per il Nobel. Basterà attendere ancora qualche ora per sapere se al GSI sarà ora di festeggiare. Grazie.